Dominus Vobiscus, et cum Spiritu Tuo, Dominus Vobiscus, et cum Spiritu Tuo, benedicat vostro Onnipotente Nomine Patris et Figlio de Spiritus Sanctus Amine, leggiam sul nostro breviarium elettronicum. Dedicessu penitenzi e meditazione em privazione em preces atque cilisium redi, mala tempora currunt, milles Dei agendum at pugna, contra il demonia necesse est. Ut esplicavit Sanctus Omine Livio Fanzaga, Radio Maria Sacerdos, avemus ad bellumire contra mala tempora, contra l'Omine Sanseldeus Onnipotente, contra culatacione, sugatur de augellum utrisque, atque pecatora et illos, milizie, demonie, mandara l'inferno a sbrusegarne le fiamine eterne. Sentimus che in civitate cerignola, omus santus alteri, equidem pugnat, infernoa, milizie, Don Pasquale Ieva, sacerdos Dei, pugnat contra malomnina, contra il demonia, cui invadi quadrata, contra gioinastra Sanseldeus, cui cantane, acque balan, quande passa la procession del Christus Santus el venerdì. Pasquale Ieva, solum in cerignolam, come solum ere Christua mortum sulla cruz, pugnat contra milizie demoni, e contra il cirullum Michelem, omine comunista, puerorum comedienti, atque contra sgarum Tommaso, anche a lui puerorum comedienti. Sentimus. Pasquale Ieva, Padre Santus, vuole pregare per questa malomine, e noi diciamo no a questa vision modernistica. Ma l'omine è troppo incomodo pregare per loro. O portet necare, amassai, e impicai, e mandai giù all'inferno, a sbrusegar nelle fiamme interne, e ve sbarstuna, e ve smangià, e ve scalpestà, per ogni secola, secolo. Andi in pace, in nomine Christi. Amine.